ciao a tutti oggi per l'apportamento settimanale mi sono vestito da promoter e quindi presento il prodotto di oggi che è un prodotto tipicamente natalizio il prodotto che vi presento oggi è un prodotto è uno snack che viene fatto solitamente per dare allegria e dare regali anche per i nostri piccoli amici soprattutto i nostri piccoli amici cani a questo riguardo la doggy bag ha creato una linea di candori e di canettoni molto buoni infatti vediamo la elva che è molto attratta da questo prodotto infatti lo annusa attenzione è molto pericoloso vi dicevo allora è stata creata una nuova linea di canettoni di candoro sempre più appetibili e sempre più sani che non vanno quindi a incidere sul metabolismo del nostro piccolo amico a questo riguardo si parte dalla linea classica quella rossa è un classico canettone formato con l'interno del gano logicamente all'interno del cocco che viene appunto prodotto come viene prodotto come uno snack in pratica le novità quest'anno sono due di carattere gastronomico esattamente il canettone falcito di salmone e quindi si va a creare una ricetta vera gastronomica a tutti gli effetti e quindi una via di mezzo tra un canettone e un candoro candoro che rimane come prodotto di punta candoro che è a base di cocco che serve appunto per agglomerare meglio il prodotto tutti questi prodotti come vedete sono presenti nel mio punto vendita sono in offerta il canettone classico a 5 euro e 90 il candoro e il canettone gastronomico invece sono a 7 euro e 90 vi aspetto a provarli per un piccolo e dolce regalo di natale alla prossima grazie a tutti